Oh hi! It's me again! Queste me le ricordo sicuramente Ma diciamo che il pezzo che più mi interessava era appunto questa palette Che tra l'altro pack super carino con pizzo bianco su sfondo azzurro grigiastro Ha un po' il vibes della wedding collection di Jeffrey E dal sito vi devo dire la verità Questa palette non sembrava assolutamente niente di che Però conoscendo la qualità appunto di Shiglam Sapevo che mi avrebbe regalato gioie Infatti questo è l'interno, cioè non so quanto rende A parte questa cialda che è bellissima Ve la faccio vedere al contrario Perché di qua c'è lo specchio Cioè non so se si intravede Ma c'è lo specchio Di solito nelle paletti Shiglam non c'è mai Questa cialda è tipo nera con un teschio Se vi ricordate anche nella palette Quello che vi ho fatto vedere nell'ultimo video make up Che era appunto la palette di Halloween dell'anno scorso Anche lì c'era una cialda speciale E ok sì così si percepisce che sono tutti glip chat Questi qui Questi Sono tutti glitter Allora raga l'unico che Pena li ho ancora sgocciati E l'unico che penso che sia proprio effettivamente un glitter Credo sia questo Abbiamo poi questo che raga c'è i pack Sono carinissimi Dovrebbe essere un po' come gli eye gloss di Jeffrey Ovvero dei pigmenti però con base molto trasparentina e appunto tutto il riflesso Questo ha il riflesso tipo argentato azzurri no? Ce ne erano altre due Questo era quello che mi ispirava di più E come ultima cosa ho preso il lip balm Questo raga l'ho già provato Posso già dirvi qualcosa? Eccolo qui È super carino perché è tutto trasparente Quindi esteticamente è veramente veramente bello Se siete fan della sposa cadavere C'è anche l'anello appunto di Victor Allora raga visto che questo è un lip balm Basi Direi di andare ad applicarlo subito Vado a rimuovere quello che ho adesso Ovvero Banana Fetish di Jeffrey Che piccolo aggiornamento Mi piace tantissimo È veramente super 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 nutriente Ho sistemato un filo l'inquadratura Comunque eccolo qui Io inizialmente la prima volta che l'ho applicato Pensavo che fosse più o meno color changing Ovvero di quelli che cambiano con il pH E no Io raga vi posso già dirvi che di questo vi consiglio l'acquisto Solo se siete fan della sposa cadavere E lo volete come pezzo collectors Perché non è assolutamente niente di che Non è effetto glossato lucidino Non è color changing come idratazione Non è niente di che Potete benissimo vedere la differenza Tra questo e quello che avevo prima Comunque io direi di passare alla palette Al look occhi Io sono già andata ad applicare un primer Anzi prima voglio swatcharne alcuni Ok no questo Wow No beh raga Questo è stupendo Pensavo che fosse un glitter Mi ero già preparata Ha quella texture di glitter un po' secchini Ragazzi non so se ci stiamo rendendo conto È un duo chrome viola e blu Magari da lì non rende Ma è un duo chrome Wow Calcolate questa palette 8 euro Di solito i duo chrome costano una fucilata Ho dentro anche tutti questi Raga So già consigliarvi l'acquisto di questa palette Se la trovate ancora correte Prendetela anche solo per questa cialda Ok Proviamo a swatchare wedding day Madonna Anche questo raga è bellissimo Victor sembra molto bello Come ultimo andiamo a swatchare butterflies Wow Questo è butterflies Victor Wedding day E l'ultimo che non capisco bene il nome della cialda Sinceramente Però meraviglia raga Wow Ma che belli sono Cioè sono veramente stupendi tutti Intanto che stiamo swatchando cose Raga mi pare opportuno Swatcharvi anche Tears to shed Ovvero Quello in pot Bello 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 Questo secondo me si potrebbe utilizzare Anche come illuminante Tra l'altro a proposito di She Glam Non so se avete visto l'ultima collezione uscita Quella a tema fabbrica di cioccolato Non so sinceramente se prenderò qualcosa di quella collezione Forse giusto un set labbra Perché la palette è molto bellina Esteticamente veramente bellina Però come tonalità niente di che Niente che io non abbia già in varie altre palette Inizio andando ad applicare con un pennello a punta Hotscotch Ovvero questa cialda che non so se rende Ma ha tutto il disegno delle farfalline Come questa Vado a picchettare Allora Non è super pigmentato Nel senso lo vedo che abbastanza sheer È veramente bello come colore Ha molta componente gregiastra Su interno Cioè comunque come palette Raga questa è fredda Non l'avevo detto però È una palette fredda Piccolo update sulle labbra Posso dirvi che è stranissima come sensazione Perché non le sento idratate Però sento che c'è su qualcosa E sembra tipo di avere Avete presente la texture del primer di Benefit? Tipo strassiliconico Quello È veramente strana come cosa Quindi diciamo che non è assolutamente il mio burro labbra prefi Una cosa che posso dire di questa palette È che Vabbè allora In teoria ci sarebbe la cialda quella con il teschio Però manca un colore scuro A parte quella salda Che io sinceramente non mi sento di andare ad utilizzare Perché appunto mischiandola si rovinerebbe Ed è troppo bellina Vado ora con un pennello pulito a sfumare Solamente la parte superiore Perché poi sotto Andrò poi a pulire con un dischetto E non so se notate ma ha fatto già un pochino di fallout Vado a sfumare insieme con un pochino di Victor E lo vado a portare anche nella parte più interna Allora posso dire che come pigmentazione Non è quella migliore di She Glam Per quanto riguarda i matt Comunque ho già provato due colori E entrambi sono abbastanza sheer Abbiamo swatchato i shimmer Sono la cosa più top del mondo Quindi sì mi verrebbe un pochino da pensare Che abbia fatto apposta questa cosa Per dare un pochino quel mood lì ecco Non che questa cosa mi dispiace sinceramente Perché comunque ho praticamente tutte palette Con una pigmentazione super top Quindi ci sta magari averne una Un po' più sheer Però credo anche che sia bene saperlo Vado ora con un pennello piatto A prelevare Emily Sempre con un altro pennello più o meno piatto A prelevare Butterflies E lo vado a sfumare con Emily Non so quanto renda sinceramente È bellissimo Ci sono i glitter che hanno dei riflessi stupendi Vado infine nell'angolo interno con Wedding Day Posso dire che non mi fa impazzire questa cosa Che i matt siano così soft E i glitter siano così intensi Cioè amo glitter così Anzi avrei forse voluto tutta la palette Su questo di mood Come vi stavo dicendo prima Ci sta ok anche il mood più soft Però c'è comunque accostati con dei glitter così Cioè sembra un po' che al look manca qualcosa Nella parte qua in alto Ora non ho voluto fare niente di troppo grafico Anche la cut crease l'ho fatta semplicemente con le cialde Quindi direi che se volete un look tutto con i brillantini Insomma tutto così super costruito Vi consiglio di utilizzarla in combo con un'altra palette di matt Comunque belli scriventi belli pigmentati Se volete solamente un look più sheer o un po' più fantasmino insomma potrebbe starci benissimo per i matt che ha Ok ragazzi sono andata a sistemare la situa così con un filo di eyeliner Lo so che sono andata a coprire praticamente tutti i matt e ahimè parte di Emily Però almeno il look è un po' più nel mio stile Diciamo che lo trovo un po' più completo ecco Sapete che io solitamente le ciglia finte le applico out of camera Oggi le voglio applicare con voi perché ho un prodottino nuovo da farvi vedere Non fa assolutamente parte della linea della sposa cadavere Non è assolutamente di She Glam Ma sto parlando dell'eyeliner barra colla ciglia di NYX Allora partiamo dal fatto che amo che sia rosa Perché almeno si va a differenziare dall'Epic Ink e dal Lift & Snatch Che appunto a volte mi sono confusa tra di loro Questo è come potete vedere un eyeliner con la punta in feltro Va applicato esattamente come un eyeliner e le ciglia ci si appiccicano sopra Allora io non ho preso delle ciglia dei loro set Perché volevo appunto provare a vedere se con altre ciglia quelle che utilizzo solitamente funzionano ugualmente O appunto servivano le sue Piccolo spoiler van bene tutte Piccola tip se fate degli eyeliner piccolini discreti come i miei Utilizzatelo sopra il vostro eyeliner Per due motivi sostanzialmente Il primo è che se utilizzassi questo come eyeliner Come utilizzo questo credo che lo finirai in 02 E seconda cosa e più importante perché vi andrebbe credo a rovinare il make up Questo è appiccicoso raga è appiccicoso e andando ad applicarlo anche in punti in cui comunque la palpebra si appiccica Si appiccicherebbe andrebbe a rovinare tutto quanto e non avrebbe senso Invece lo vado ad applicare sopra l'eyeliner quello che metto solitamente appunto una volta che si è asciugato E lo vado ad applicare solamente nella zona in cui andrò a mettere le ciglia finte Tra l'altro la cosa bella è che se lo applicate in questo modo come faccio io potete tranquillamente non essere precisi Perché tanto nero su nero non si vedrà nulla Vado anche nell'angolino interno Eccolo qui applicato non si vede assolutamente niente ma vi assicuro che è super nero E vado ora ad applicare la ciglia Cioè raga posso dirlo I'm a little shooked Cioè wow Sembra veramente che ci sia della colla Anche tra l'altro la parte più interna cioè vedete è attaccata L'ho già provato ieri mi ha resistito E per andare a rimuoverlo semplicemente come se fosse colla per le ciglia Nel frattempo ho questo di Palm che mi dà un sacco fastidio Perché veramente sembra di avere il primer di Benefit sulle labbra Non si augura Questo è il look che è uscito lo vado ovviamente a rifare anche sull'altro occhio E ritorniamo poi insieme ad applicare questo prodottino come illuminante Vediamo se andremo a rovinare completamente tutto il look I'm back ovviamente come vi stavo dicendo poco fa non ho applicato questo prodotto Lo andremo ad applicare ora insieme a tenere di applicarla anche nell'angolo interno È un po' scomodo in realtà raga da rilevare con un pennello Però l'effetto direi che ci sta È uno di quei prodotti raga col quale è facile far poccio Da lì sembra tipo una reganetta In realtà no dal vivo è molto più bello Più sumato Mi è finito anche nell'occhio Sì si augura No Ma comunque direi ora di provarlo come illuminante Provato con la spugnetta è venuto un po' uno schifo Proviamo col pennello da illuminante Col pennello da illuminante è già meglio Adesso mi lasciam perdere che non ha una forma E ci sono delle macchiette perché prima l'ho applicato con da blender E non è proprio la sua cosa Allora raga io in genere questi prodotti preferisco applicare su tutta la palpebra Tipo con un pennello da sfumatura Fare una cosa molto ampia molto diffusa sfumata Così altrimenti si fa un po' un casino Anche nell'angolo interno è carino però bisogna dosarlo No come illuminante a meno che non trovo Intanto ora mi sta cascando lo sfondo Oggi sto impazzendo Quindi raga forse ce la facciamo a terminare questo video Questo è il look alla fine che è uscito Mi pare più o meno ve li ho già detti durante il video Sto giro ha cambiato un pochino Fatemi sapere voi che cosa ne pensate Se avete provato qualcosina da questa collezione O se avete appunto voglia di prendere qualcosa Nel caso vi consiglio vivamente di sbregarvi Perché non so per quanto ancora sarà disponibile questa collezione Essendo una limited Io come al solito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù in info box Perché li troverete tutti quanti i link per andare a seguirmi anche sugli altri miei social Vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo punto del video Vi mando un mega bacione E noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video Ciao